Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Abbiamo dei numeri, abbiamo delle strutture che, ripeto, sono già oltre misura occupate a disposizione per le emergenze, che però sono ormai arrivate a un punto di saturazione. Altri 106 migranti sono sbarcati al porto di Ancona, alla banchina 19, ieri mattina. Intanto il sindaco Daniele Silvetti ha già fatto sapere che la città è piena, non ci sono più posti disponibili per le persone migranti arrivate dalla nave ONG e salvate a largo delle coste libiche. Ma noi siamo andati tra la gente a chiedere cosa ne pensano di questo tema, soprattutto qui nel quartiere multiettrico del Piano, dove vivono persone provenienti da ogni paese del mondo. Sentiamo. L'accoglienza deve essere fatta per tutti, soprattutto per le persone che soffrono. D'altronde poi bisogna vedere la questione comunale, come è la questione della città, però non si può mandare indietro le persone, bisogna accoglierle quando c'è la possibilità. Questa è l'Europa che sta rovinando l'Italia, da tutte le parti. Il governo tira su due miliardi della benzina per pagare i danni che deve fare, e gli altri pagano, con la pensione. Ma c'è più di loro che di nostri. Specialmente qui al mercato, comincio a venire con i sacchettini dell'aio. Io per carità, loro hanno ragione, ma pure noi altri non si fanno. Voi fanno passeggiata, ti vengono intorno sempre con... Il sindaco Silvetti dice che non c'è più posto adesso. Ma finì che c'è più di loro che di noi. Te sfuggono dalle guerre, quindi non è che la situazione sia positiva. Ma quando c'era la guerra qui, loro volivano aiutare. No, allora, la sabbia sta laggiù. In realtà non penso ci sia tutta questa esigenza nel parlarne. Non sia un'emergenza? No, perlomeno non mi sembra, non saprei. Quelli vengono, gli devi da bere, da mangiare, il posto per dormire, gli devi da tutto, gli devi da... C'è i bambini, maschi, levano gli altri, l'ha detto, che fra poco ci dà meno di pensione e pagano più bulletti. Ma i tempi non sono dei migliori? No, no, per niente. No, no, per niente.